ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi un video che mi avete chiesto in tantissimi e cioè come faccio a trasformare una saponetta in un sapone liquido nel caso di oggi andrò ad utilizzare un sapone di marsiglia ma potete utilizzare lo stesso identico procedimento con qualsiasi tipo di saponetta ma andiamo subito a vedere come trasformo il mio sapone quindi vado a prendere una saponetta e se volete potete utilizzare anche tutti gli scarti delle saponette o tutti i rimasugli che vi rimangono e vado a tagliarla in pezzi io prenderò solo un pezzetto di questo sapone perché il rapporto è circa 1 a 10 quindi ogni 100 grammi di sapone si va ad utilizzare un litro d'acqua questa saponetta è da 400 grammi quindi io ne vado a prendere solo un quarto e quindi 100 grammi questo pezzettino di sapone che andrò ad utilizzare lo vado a tagliare in pezzetti più piccoli ovviamente saranno e prima si scioglierà e vado a versarlo in un pentolino e quindi aggiungo un litro d'acqua proprio perché come vi dicevo prima ho utilizzato soltanto 100 grammi di sapone a questo punto accendo il fuoco e metto il mio pentolino sopra e aspetto che l'acqua si scaldi e continuo a mescolare di tanto in tanto insomma tenendo d'occhio che non bolla quindi il fuoco può rimanere più o meno a fuoco medio una volta che tutti i pezzettini di sapone si sono sciolti semplicemente spengo il fuoco e lo lascio raffreddare e anche qui di tanto in tanto continuo a mescolare il mio sapone fino al giorno dopo il giorno dopo avrà questa consistenza molto gelatinosa sembrerà proprio un gel e ovviamente sarà anche completamente raffreddato quello che vado a fare a questo punto è frullarlo con un mini primer se vi rendete conto che il vostro sapone è ancora troppo denso basterà aggiungerci dell'altra acqua purtroppo la dose non è precisa perché cambia da saponetta saponetta quindi dovete in qualche modo regolarvi da soli una volta che ho finito di frullare il mio sapone vado a versarlo in un contenitore per il detersivo in questo caso o in un contenitore per il sapone per le mani per il corpo insomma dipende da cosa dovete utilizzarlo e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia tornato utile ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto o semplicemente per sostenermi iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina se ancora non l'avete fatto e niente se avete altre richieste lasciatemi sotto nei commenti scrivetemi anche cosa ne pensate o come fate voi il vostro sapone liquido con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao